Allora, partenza dal santuario di Colle Lungo, quasi 1400 metri nella zona delle Mainarte, a parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, diciamo verso Lazio, nel Lazio, per fare costa dell'altare e il Cappello del Prete, che sono due cime di 2000 metri, speriamo di farle nella zona di qui delle Mainarte, quota massima 2075 metri. Ah, vedi, l'hanno saldato fa. Vedi, questo esce fuori e poi dopo tu... No, ho prenduto in cero qui. Sì. 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 No, basta, già siamo usciti dal bosco. Eh, fa? Che dicevi? Ah, no, no, pensavo... No, dico, il sentiero è questo, eh? No, perché me lo ricordo. Prima non me lo ricordavo, adesso questo pezzetto me lo ricordo. Alla raggio, alla raggio, non prendiamo il cuore, non prendiamo il cuore, non prendiamo il cuore. Alla raggio, alla raggio. Alla raggio, eccoci, cominciamo a vedere i cimenti dei main art, quello è il Monte Mare, questo qua. Se vediamo il Monte Cavallo, dove è? No, non si vede. Alla raggio, eccoci对 tutti. Alla raggiungo. Alla raggiungo. Sì, sì, sì. Oh, ma c'è rimasta lì, eh? C'è rimasta qua, qua, quel sentiero. C'è, sentiero sfigato qua lì, eh, fai? Sì, sì, non sa che troveva. E l'altra volta c'è la neve. Si è aperto tutto e ci trovi. Perché qua c'è la volta c'è la neve, cazzo, è un pelo. Il monte mare si riconosce subito, eh? Quello più... E ora stiamo salendo alla cima dell'altare che è la prima cima che vogliamo fare. Siamo a 2.075 metri, qua il monte mare sullo sfondo. Quasi in vita. Sì. 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 Vabbè. Sì. 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 Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.